Ahahahahah! Non mi sfuggirai, Chloe! Buon San Valentino, Chloe! Avrai finalmente ciò che meriti! I miei capelli! Non c'è niente di peggio che ritrovarsi tutte spettinate! Prima Ladybug mi ha sgualcito i vestiti e dopo sei arrivato tu e mi hai rovinato l'acconciatura! Dai, tirami questa benedetta freccia e facciamola finita! Tanto non mi interessa più niente! Non meriti nemmeno che sprechi una freccia per te! Tutti sanno che sei senza cuore, quindi sarebbe inutile! Ma come osi parlarmi in questo modo? Che cosa fai l'impalata? Su, aiutami! Pensi davvero che darò una mano alla perfidia in persona? Aspetta che gli altri vedano questa! No! Tranquillo, micetto, è la tua ultima occasione! Ah, non riesco a credere che sto per farlo! Come pensi di fare per combattere entrambi adesso? Cataclisma! Mi sono sempre chiesto che sarebbe successo se l'avessi usato su qualcuno! Lucky Charm! Come? Una mela caramellata? Che cosa dovrei farci con questa? Rifletti, Ladybug! Ma certo! Ho un regalo di San Valentino per voi! Direi che oggi non è proprio il tuo giorno fortunato! Ma che... Ladybug! E ora è il tuo turno, felino! Chanoir, il Miraculous! Ci penso io! Scoprirò finalmente chi sei, Ladybug! Puoi dire addio alla tua identità segreta! Ma... ma che mi è successo? Non c'è tempo! Prendi la spilla sulla paretera, presto! Forza! Prendi la spilla! No! Scusa, mi serve! Felice San Valentino, mia cara! Oh, non dovevi? Ups! Niente più malefatti, piccola fuma! Ladybug, sconfiggio il male! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Miraculous Ladybug! Ma che cosa sto facendo? Ma come ti è venuto in mente? Io... non ne ho la minima idea! Miraculous! Le storie di Ladybug e Chat Noir a Disney Channel!